Le donne quando si innamorano pensano che l'amore sia un talismano, pensano che il fatto di essere innamorate le protegga da ogni guaio, sia dal rischio di concepimenti indesiderati e infatti noi abbiamo un dato molto chiaro in Italia che le donne in fase di passione di innamoramento tendono a non proteggersi nei confronti dei rischi di concepimento indesiderato e utilizzano la pillola del giorno dopo o meglio la contraccezione di emergenza più di tutte le altre donne, ma attenzione la donna innamorata proprio perché sente un bisogno di maggiore intimità fisica, di maggiore fiducia anche reciproca, tende a non usare il profilattico e a non farlo usare, questo è un rischio gravissimo, per cui ragazze e signori in ascolto anche se siete innamoratissime imponete l'uso del profilattico, perché è proprio nell'amore in cui abbiamo più fiducia, che ci possiamo poi trovare con una sorpresa amara e dalle conseguenze anche gravi, quindi l'amore è meraviglioso, la passione è straordinaria, amiamoci a fondo ma proteggiamoci con l'uso del profilattico sempre in ogni rapporto, fin dall'inizio del rapporto.